Volgono al termine le vacanze estive e tra pochi giorni arriverà il momento del ritorno a scuola per gli studenti di istituti comprensivi e superiori. A Pescara e nei comuni limitrofi, nella stragrande maggioranza dei plessi, i dirigenti scolastici hanno fissato le date delle prime campanelle. Nel capoluogo buona parte degli istituti comprensivi riprenderanno le attività didattiche il prossimo 12 settembre. Le eccezioni sono l'istituto comprensivo Pescara 6, dove le aule riapriranno il 7 settembre, Pescara 1 e Pescara 10 riapriranno l'8 settembre, Pescara 7 il 9 settembre. Passando agli istituti superiori via alle lezioni subito all'istituto tecnico Aterno Mantonè il 5 e il 6 di settembre. Il 7 settembre toccherà gli studenti dell'istituto tecnico commerciale per geometria Cerbo e l'istituto alberghiero De Cecco. Il giorno dopo, giovedì 8 settembre, sarà la volta dell'istituto professionale di Marzio Michetti e dell'istituto Alessandro Volta. Per il liceo classico Marconi e il liceo scientifico Galilei si tornerà a regime lunedì 12 settembre, anche se le classi prime inizieranno le lezioni in anticipo, venerdì 9 al Marconi e tra il 5 e il 10 al Galilei. Ancora da stabilire la data della prima campanella per il liceo scientifico Da Vinci e per l'istituto artistico Misticoni Belisario. Saranno i collegi dei docenti delle scuole nei prossimi giorni a fissarle. Meno frammentato il quadro per le scuole di Montesivano, nelle quali la data di riferimento è giovedì 8 settembre, giorno nel quale riprenderanno le lezioni degli istituti comprensivi Delfico Silone e Rodari e negli istituti tecnico Alessandrini e scientifico Dascagno. Il 7 settembre, prima campanella per le scuole medie del comprensivo di Villa Verrocchio. Da fissare le date nell'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo e negli istituti superiori di Penne.